Bella ragazzuoli, qua Wunk, e rieccoci col secondo episodio di Pokémon Scarlatto. Siamo dove c'eravamo fermati, davanti alla caverna con lui che era responato là dentro all'improvviso. Vediamo dove ci porta, penso ci riporterà sul sentiero principale adesso. Che bei passoni che fai. Non si può più correre, nelle caverne non correte ragazzi. Niente, non dico più niente. Va a tratti, a volte corre, a volte no. Ah, perché non lo devo superare, sicuramente è quello, ti blocca la corsa se gli stai troppo vicino. Nemi, ci sono venuti a riacchiappare. Tutto ok. Se siamo fatti niente, abbiamo usato la modalità aereo del Rotom. Ok. Carino, sembra molto uno di quei dungeon dei giochi medievali, simili di Skyrim, The Witcher. Ah, stai a far scappare i cagnetti, eh? C'è un Andur là sopra. Strumentino. Ma io là sopra ti posso puntare? Ma è a livello 40, oh vada. No, 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 non ti voglio catturare, mai voluto in vita mia. Una pozione. Allora, che altro c'era? Sotto c'è qualcosa, andiamo a vedere. Come ci posso andare qua sotto? Perché vibra tutto? Che cos'è? Cosa succede? Che cos'è? Ma perché? È ottimizzato veramente male comunque. Ok, al ritorno no, non ha vibrato. Ah, ecco i cani, sono tornati i cagnacci. Ma io stavo là dietro quel sasso, non sono teletrasportato, vabbè. Non abbaiano così i cani. Niente. Cioè, loro vengono, ti abbaiano e schiappano. Ok. Che passi grossi. Come sei voluto, Sparcaroccia? Sì, sono dentro di te però, andiamocene. Scusami, potresti... Grazie. Tanto comunque si sta avvicinando qualcosa, vediamo. Dietro di me. Eccolo. Quello grosso, livello 40. Forse ora ci fa lotta con il leggendario. Doom! No, io non userei lui. Non mi pare il ca... Mi sembra leggermente sbilanciata come lotta. Questa è la tecnica segreta della famiglia Joster. Che pigna che gli ha dato. Ecco la cucciolata. La carica dei 101. Sono un po' tanti. Sono veramente 101 questi. Grazie, signor Pokémon grosso. Ha, i cani non sanno saltare. T'applaudi? Incredibile. Che program è un imponente. Ma quant'è che io non sentivo l'espressione per il rotto della cuffia? Ma che è vampiro, si è sciolto al sole. Forse hai esaurito le forze. Siclizar. Difficile a dirsi. Ma non abbiamo lottato, soprattutto. Eh già. Ok. Queste prerogative partiamo. Già sarà un Pokémon mio. Ah, c'ha dato il numero, raga. Dai. Bello Rotom Nero. Io pure io. Si potrà cambiare la cover del telefono. Comete. Ah, le MT si possono usare una volta sola. Siamo tornati ai vecchi tempi, in pratica. Non so più infinite. Non passo indietro. Uno no MT con la macchina MT. Ok. Ah, ecco. C'è il crafting per le MT. Per quello si usano una volta sola. Ok. Quello penso si farà più avanti, comunque. Vabbè, per ora non ci serve. Andiamo al faro, ragazzi. Che dovevamo andarci, ma abbiamo avuto quell'inconveniente con la scogliera. Vediamo cosa c'è dietro al faro. Niente. Non lo vedremo mai. Quello che sta facendo. F4. F4. Vestito con gli stessi colori del Pokémon. Volete che è il suo? Pepe. Non vedo che c'entri mia mamma, adesso. Mi ha salvato. Ah, quindi cambia forma quando lotta. Coraidon, Sian. Ok. Gua. Pokémon speciale. Va bene. Sai che bisogna lottare, sì. Lottiamo. Mi pare un più lo scemo con sta faccia, questo. Oh no, lo scogliatto lo cavamo in casa. Ok. Va bene, sono ovviamente brutti ricordi. Ma lo vogliamo, che stab. Ok. 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 Graffio. E' a posto. Non è durato molto anche lui. Buono, Fletching è salito di livello e lui lo voglio tenere in squadra. Fletchion che poco mi interessa. Non sembri malaccio. Fai uno scogliattolo come Pokémon. Non è che fosse così complicato. Ben fatto, allora. Ah, l'ho appena catturato il tipo, lo scogliattolo. La Pokéball di Coraidon. Ok. Che poi vuole un'altra Pokéball. In sostanza. E fai migliori così. Dimmi che sono carina. Che tipo strano. Ok, quindi abbiamo già il leggendario in pratica. Ok, forse andiamo all'accademia adesso, dai. Buono, buono, buono. Ah no, prima dobbiamo vederla da faro, giustamente. Eravamo qui per quello. Volevo vedere chi c'era qua dietro, più che altro. Sicuramente ci sarà qualche strumento. Infatti. Revitalizzante. Ottimo. C'è un lecionca che si nasconde dentro l'albero. Poverino, è terrorizzato. Ok, saliamo per il faro. Area 1 sud. Allora. Ok, non c'è niente sul faro. Vediamo. Mesapoli. Che è la città con l'accademia. Molto bella Mesapoli. A parte che pare la grafica da PlayStation 1, però. Quando l'abbiamo vista nel trailer iniziale era molto bella. Non vedo l'ora. Studiare non è il mio forte, era l'altra opzione. Sì, sarebbe anche un bel panorama se non fosse appunto per la grafica da PlayStation 1. Vabbè. Almeno qualche albero si vede. Benvenuto a Qualdea. Sì, quello è un distributore di benzina, sembra, più che un centro Pokémon. Aspetta, ma ho visto la forma dei Pokéstop e dei Pokémon Goal, cosa sopra, mi pare. Carino se hanno messo i Pokéstop. Sarebbe una bella novità. Ok, riscendiamo dal faro. Sto scendendo, non si vede niente. Ok, sì. Ok. Questo è uno strumento di quelli nascosti. No, una bacca. Una bacca frago. Ok. Area 1 Sud. Devo andare avanti? No, credo. Non vedo lei. Questa sì, dovremmo andare là. Lottiamo. Ah, la prima lotta, ragazzi. La prima lotta con gli allenatori. Che è Gennaro Bullo, questo. Ah, non scatta in automatico. Soprattutto andando a parlare io. Se vieni a parlarmi scatta la lotta. Ok, non sono obbligatorio. Eh, non sono obbligatorie. Ho mischiato non sono obbligatorio con non sono obbligato. Non sono obbligatorio. Ok, questo è tipo goleottero. Livello 5, dai. Ce la dovremmo fare con livello 5. Vedete, colpo coda. Non basta la velocità, lui. Morse c'ha 60... 40 morse. Ok, ottimo. Ha dato un bacetto alla Vokebull o sbaglio, bambino? Credo, eh. Sono i tuoi che sono un po' deboli più che altro. Però vabbè. Ma è depresso, ragazzi. Mi dispiace. Non volevo farti così male. Scusa. Ucce Psyduck. Psyduck ci serve il tipo acqua. Psyduck lo mettiamo in squadra. Lo mettiamo al posto di... Niente soprannomi. Aggiunge la squadra. Vediamo. Io direi che... Io leverei... Oh, pippa a questo punto del tipo erba. Tanto abbiamo lo starter. Ok, quindi Psyduck. Poi lì c'erano dei Merrill che volevo comunque catturare almeno uno. Azurill, scusate. Merrill è l'evoluzione. Vai. La cattura è quella perfetta? Ah no, sta semplicemente fluttuando la Vokebull. Pensavo rimanesse in volo per la cattura perfetta. Invece no. È l'acqua che è un po' rotta. I miei Pokémon sono tipo Gesù, camminano sull'acqua. Ah, è normale Folletto. Non è tipo acqua, Azurill. Ma se ci diventa dopo. È uno Psyduck sbragato là dietro che dorme. No, assolutamente lui sarà il tipo acqua. Che scherzi. C'è Buisolo. Buisolo, assolutamente. Addio Psyduck. È stato bello conoscerti. Bello che sta in diagonale su una montagna sta. È un po' baggato il gioco. Che è appena uscito, però... Un Pokémon è così baggato non penso di ricordarlo. Non credo sopravvivere a un altro graffio. Oddio no, ma ha abbassato l'attacco. Non dovrebbe morire con un altro graffio solo. E invece è morto. Brutto colpo io ho fatto. Ma dai, che sfiga! Vabbè. Ne cerchiamo un altro, se... Niente, Psyduck rimarrà con noi un altro po'. Anche perché non vedo un altro Weasel. Quindi probabilmente lo terremo per ora. Appena vedo un Weasel, ciao ciao. Baccachi. Ok, abbiamo calcolato Deerling. Eh sì, infatti... Io ho dato un nome a metà perché volevo uscire dal menu, ma ho cliccato conferma. Vabbè. Deerl. Si, ma... Però comunque non lo useremo, Deerling. O Deerl. Potremmo dire che ci passavi sopra e ti piava, però vengo di premere tasto e di porta a sto punto. Eh, confonde il faccio di luce. Cos'è questo? È piccolissimo. Non è lì che volevo tirarlo. Piccolissimo. È piccolissimo, dal filmato non sembrava così piccolo. Pau mi. Io ho paura di ucciderlo. Aspetta, intanto tiriamogli la Pokéball normalmente. Sennò ho paura di stenderlo subito con un colpo, questa. Non so neanche che tipo sia, sarà normale, penso. Però col fatto che è arancione, mi dà le vibes di tipo elettro. Però, non credo ti dando un tipo elettro così. Giusto su Diamante e Perla c'era Shinx all'inizio. Vediamo che tipo... Eh no, invece è tipo elettro, ci ho azzeccato. Ce lo teniamo in squadra, il tipo elettro è comodo. E adesso, se avessi preso Buizel, sarebbe perfetto. Forse vicino a sto corso d'acqua, un Buizel lo troviamo. Spero. No, solo Psyduck ci stanno qua. Ah, eccolo, 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 eccolo. Non scappare da me. Vieni qui e amami. Ah, Buizel è stato colto di sorpresa. Hanno rimesso sta cosa che se prendi da dietro è di sorpresa. e quindi c'è più probabilità di cattura. Ho messo un po' come un arcello. Quegli Psyduck dietro sono inquietanti. Dai, abbiamo preso Buizel. Buono. Possiamo togliere Psyduck, finalmente. Bene. Possiamo andare là al Pokestop a sto punto, direi. Ah, qua c'era un altro dove avevo trovato quello all'inizio di Buizel. Pensa un po'. Ok, là c'è un'altra allenatrice, credo. Ma è shiny o è regionale? Non ho capito se è shiny o è regionale. Però mi sa che è regionale. Ok, sì, è regionale, è regionale. È diverso da Wooper normale. Eh, infatti è forma di Paldea, vedi. Non è rara shine. Ce l'ho creduto. Magikarp! Oddio, Magikarp muoterei squadra. Garidos non sarebbe male, eh? Carino Buizel, però Garidos è forte. Bisogna farlo sale in pochetto. Ma cos'è un pezzo di neve quello? Non posso. Io Magikarp è squadra lo terrei. Per ora. Così c'erremmo Garidos più avanti. Aggiungi la squadra. Togliamo le chanke intanto. Ci siamo rimessi in foro. Cos'è questo? Cosa sei? Bau! Caneghiatto! Fidog! Pokémon Fido! Comunque sì ragazzi, quello sembra proprio un Pokestop dalla forma, anche del coso sopra. Lo stesso simbolo dei Pokestop di Pokémon GO. Carina come cosa, ora ci arriviamo. Prima però facciamo la lotta. Folletto lo aggiungiamo, levo quell'altro. Ok. Qua non dovremmo aver salto l'allenatore. Qua c'è un allenatore, andiamo. Combattiamo. Marina, studentessa. Ah, sempre questa sarà un'altra matricola dell'accademia. Doresti andare giù con un corpo. No. Quanto pare. Facciamo i tipi resistenti qua, eh. Zacchete. Non ha più energie. Ok, Weasel ha imparato una nuova mossa. Abbiamo sconfitto un marina studentessa. Soldi. Cos'è sei tu? Ma sei shiny! Oh, ci sono più forti... È uno shiny! Così! Ok! Trovato uno shiny, regà. Buono! Buono, 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 buono. Magari se l'evoluzione fosse un po' più carina, lo userei anche. Volendo lo posso mettere in squadra? Capito comunque che è fatto col gomitolo. Non ci ho fatto caso essendo bianco prima. Rosso dà più l'impressione che sia effettivamente un gomitolo. No, dai, mettiamolo in squadra. È uno shiny, comunque. Buono. Eh, non saprei che togliere, però. Penso a sto punto Weasel. Curio se l'ho sudato. Se no, le diamo Fidog, dai. Tipo Folletto, penso che all'inizio non sia così utile. Qua catturiamo anche lui. Ok, preso. Buono. Carino che gli shiny si vedono in overworld, comunque. Non è male come cosa. Rals? Così? Tu potresti anche col... Ma è scomparso. No! Mi è stato Rals, ragazzi. Lo puoi colpire? Grazie. È bruttissimo sto sistema di mira. Almeno su diamante... Cioè, su diamante. Su Arceus c'è il mirino, appunto. Rals shiny sarebbe bello trovare. Guarda di war azzurro. Eh, Rals adesso però non saprei dove metterlo. Pszico Folletto. Eh, penso che leviamo Besola a sto punto. Mi tengo solo Magikarp per... Per farla diventare Keridos. Allora, prendiamo questa qua e quella là dietro. E poi ci appropriamo ad arrivare al Pokéstop. Ok, siamo arrivati al Pokéstop. Platia si chiama. Carina, hanno mischiato tutto. Centro Pokémon. È carina all'aperto, così. Fa molte estate. E sta struttura è un centro Pokémon. Ma i capelli. È possibile pagare anche utilizzando i crediti di Lega. Ovvero... Ovvero... Ah, ok. Ogni credito di Lega vale un dollaro, un PokéDollaro. Ah, ecco. Per creare l'MT bisogna usare la macchina al centro Pokémon. Perfetto. Con i materiali di Poké. Molto carina sta cosa del crafting dell'MT. Non è brutta, anzi. È una bella aggiunta, secondo me. Crediti di Lega, grazie. Ah, ok. Là dietro invece c'è il... Ok. La macchina per gli scambi e tutto. Ok. Potremmo andare avanti usando il PNTR? Ah, carino. Goerre, rimandi in avanti. Comodo. Carino, carino, carino. Si può esplorare mentre i Pokémon lottano. Non è brutto, anzi. Anzi. Poi dipende anche se... Prende attacca a caso. Allora, io curerei i Pokémon, intanto. Intanto. Prima cosa, curiamo i Pokémon. Carina l'animazione del centro Pokémon. Ok, te lo regalo di compleanno. Al compleanno. Compriamo un po' di Poké Ball, direi. Una ventina, magari. Ma anche di più. Facciamo trenta. Ok. Signora, il centro Pokémon... ...è un posto ideale per darsi appuntamento con gli amici. Molto bene. Ok, esploriamo un po' la cittadina. Almeno da platia. Cittadina, tranquilla. Fai tutti a braccia aperte. Sì, sembra molto rilassante come cittadina dove abitare. Certo, cittadina. Stanno quattro case, però. Cittadina. Ma già la quina cos'è che si scioglie in bocca, signora? Ah, i gelati sono questi. Belli gelati. Potere esperienza tipo normale. Non so come funzionano. Ah, ci sono i raid, queste cose qua. Potenziano le schiusure delle uova. Molto carina. Magari più avanti. Perché mi sono abbassato? Mi c'è in fogno. Non voglio parlare con Fletch. Non voglio parlare con la bambina. Niente. Osserviamo la bambina senza dire nulla. L'antiparalisi. Ok. Ma posso entrare in tre case degli sconosciuti? Ancora no. A quanto pare no. Mi ha anche ucciso gli occhi, sta schermando. Mio primo Pokémon. Yes. Lo sapevamo. Quindi così. Buono. Certo, è un po' lento. Pensavo più veloce, però. Allora, continuiamo a esplorare Platia. In quest'altra casa ci potremmo entrare. Ci sono dei Pelipper là sopra. No, non si può entrare nelle case degli sconosciuti. Non mi piace questo gioco Pokémon. Troppo diverso. No, che i Pelipper non si possono catturare là sopra. Sono solo estetici. Sì, studiamo all'Accademia. Ancora in realtà ci dovremmo arrivare, signora. Questa sta a fare i surfi. Ok. Ah, ok. Quelli di Platia non stanno a scuola, insomma. Fanno i pendolari da casa. Sì, lo sapevo. Possono conoscere fino a quattro masse alla volta. È sempre stato così. Tipo, sempre. Cosa potete giocare? Boh, giocare da chiapparella. Questi sono catturabili? Nemmeno se faccio così, eh? No. Ok, sono affogato. Non si può muotare, abbiamo scoperto. Comunque no, non sono catturabili. I Pokémon delle città non sono catturabili, insomma. Va bene. Altre casette. Dove immagino non si potrà entrare. Venti. Mio figlio è portato per la matematica. Sì, però... Vabbè, uno è per il matematica e uno fa la rotta, ho letto al volo. Le case non sono esplorabili. Il centro di Pokémon sta là. Abbiamo visto tutto, penso, qui a Platia. Che bellezza è il prato. Touch the grass. Eh, qua c'è un grosso Pelipper. Eh sì, fa il postino Pelipper di solito, è vero. Anche sugli altri giochi Pokémon. Ragazzuoli, ci fermiamo qua. Abbiamo catturato uno Shiny, abbiamo visto Platia e probabilmente nel prossimo episodio vedremo l'Accademia. Sicuramente lo registro subito, tra l'altro, però lo vedrete il giorno dopo che carico questo. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e lasciate un commento qua sotto facendomi sapere cosa ne pensate del gioco fino ad ora. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!